In realtà tante delle cose che avete detto introducono poi il secondo fronte di indagine, di confronto, che è quello della razza. Della razza e della razzializzazione potremmo dire che è qualcosa con cui ci troviamo a fare i conti tutti i giorni in Italia e che probabilmente, la cosa che a me personalmente viene in mente subito, ma credo anche a tante altre persone, è quello di Black Lives Matter, che è arrivato attraversato un oceano, ha riempito le piazze italiane con delle rivendicazioni molto chiare che erano quelle delle seconde generazioni, di figli, figlie di immigrati, di immigrati, immigrate stesse. Potremmo discuterne a lungo rispetto alle composizioni di piazza che da un certo punto di vista hanno un po' spaccato la narrazione, la percezione mainstream che si ha delle comunità razzializzate, che è sempre un po' quella dell'emergenza, mi viene da pensare. Quindi degli sbarchi, dei barconi, delle riforme per la cittadinanza, di questi nomi che compaiono, i ussoli, i usculture, come se fossero cose aleatorie che non toccano in realtà due milioni di persone che vivono in questo paese. E appunto, allacciandomi un po' a quello che ci raccontavate, il discorso sulla narrazione mainstream, che appunto atrofizza la vita di milioni di persone. E poi dall'altra parte però confrontarsi con la sinistra istituzionale, tutta quella parte di movimenti antirazzisti più istituzionali, che sostanzialmente riproducono questo tipo di dinamiche. Le riproducono perché rendono, cioè, innalzano la figura del white savior, degli occidentali, europei, bianchi, che salvano le vite di persone che in realtà non sono, cioè soggettività che poi in realtà vengono infantilizzate, vengono rese un po', cioè, vengono tolte della capacità di avere una mente, di avere delle storie, di avere una vita, di avere della complessità. Rispetto a questo, mi viene da chiedervi, appunto, come avete visto cambiare, cioè, cosa avete visto cambiare negli ultimi due anni, come se qualcosa effettivamente è cambiato, magari non da un punto di vista legislativo, istituzionale, ma anche appunto di percezione, di movimento, di vita quotidiana, di confronti con persone che conoscete. Allora, partiamo dal principio, perché non vorrei usare termini superaulici che poi vengono fraintesi o non compresi. La razza, no? Questa parola che fa tanto paura, che ci spinge, no? Anche in un'epoca storica che vorremmo superare a tutti gli effetti. E' un po' come il sangue mestruale, no? Che fa più paura del sangue violento, il sangue di un omicidio, il sangue di una violenza domestica. E' un po' la stessa cosa, cioè, l'elefante nella stanza. La razza come costrutto sociale, purtroppo, esiste in questo paese, in questo mondo, in quanto veniamo appunto percepite come persone razzializzate. Quando ho scoperto di essere una persona razzializzata? Quando all'inizio io crescendo, essendo appunto figlia di un uomo brasiliano, una donna italiana, faceva figo essere la brasiliana di turno in Italia, fa tuttora figo, un po' come essere cubana, no? E quindi, ovviamente, da bambina, pensavo fosse un complimento quando mi dicevano Ah, sei brasiliana, quindi Ah, balli benissimo, c'è il ritmo del sangue, sicuramente sei brava anche a calcio, eccetera, eccetera. Tutti i vari stereotipi, appunto, inserire stereotipi. E io sono cresciuta vent'anni così, pensando di essere figa, ah, perché sono brasiliana, e che figata. E invece, poi mi sono resa conto di essere invece una persona razzializzata, ovvero che la mia apparenza è ciò che la mia apparenza, ciò che viene associato 99% delle volte è la mia apparenza, ovvero la mia razza, cioè afrodiscendente latina, diciamo, quindi con capelli ricci, con pelle color ambra, cappuccino, sbirrazzarritevi nei sinonimi, viene prima di qualsiasi cosa che riguarda la mia persona. Viene prima del mio nome, viene prima della mia storia, viene prima della mia competenza, viene prima della mia esperienza, viene prima delle mie aspirazioni, viene prima delle mie passioni, delle mie paure, delle mie complessità, delle mie critiche, delle mie... qualsiasi cosa. Tutto ciò viene dopo. Quello che viene prima è la razza con cui io sono identificata. E quindi crescendo anche con bambini, ho avuto la fortuna di crescere con tanti bambini neri, afrodiscendenti, figli di immigrati, in cui appunto non mi sentivo, diciamo, costantemente bersaglio di razzismo, ma anche in quel contesto a volte facevo cose e mi veniva detto ah, ma fai cose da bianca. E poi però uscivo da quel contesto, in un altro contesto magari appunto bianco, in cui difendevo magari in alcune discussioni la causa del razzismo, la causa delle persone nere, di persone che erano i miei amici, le mie amiche, mio padre stesso, parte tutta la mia famiglia paterna e difendevo con fervore queste persone, quando sentivo i soliti appunto insulti, stereotipi, eccetera, stigmatizzazioni varie, e mi veniva detto ma tu di che ti preoccupi non sei così nera. e quindi costantemente in questo limbo, in cui appunto, prima ancora di essere quanza, io sono una meticcia, una mulatta, una figlia di una coppia mista, che non ha alcun senso, perché non siamo panna in lavatrice, non siamo foglie di lattuga in insalata, quindi non ha alcun senso la parola coppia mista, però proprio la stessa parola coppia mista rivela quanto ancora la razza è effettivamente un elemento più che presente nel modo in cui percepiamo la società, perché appunto una donna bianca e un uomo nero nell'accoppiarsi fanno qualcosa di misto, pur essendo persone della stessa razza umana, come costantemente si dice, no, la razza è solo una, quella umana, benissimo, allora perché la cramica coppia mista? E quindi mi sono resa conto appunto della questione delle persone razzializzate e grazie appunto a Angela Davis e altre accademiche, attiviste, eccetera, ho capito che c'era un termine per definire queste persone, per riconoscermi tra le persone, per riconoscere persone che avevano il mio stesso background, il mio stesso vissuto, vissuti simili, vissuti diversi, anche quando si dice, ah, ma basta, etichette, no, le etichette non vanno bene, le etichette servono a identificare, a discernere, a suddividere, a dare un senso, a differenziare, e non c'è niente di male nel differenziare, se alla differenza non si aggiunge anche un valore che può essere appunto inferiore o superiore, è lì il problema, altrimenti è omologazione, cioè non ci sono più etichette, non ci sono più gruppi sociali, non c'è più comunità, non ci sono più famiglie, non ci sono più gruppi etnici, non ci sono più le nazionali, i mondiali di calcio, gli europei di calcio, non ha più senso competere per nazionalità a quel punto, e invece è bello ogni tanto supportare la propria squadra, sentirsi parte di un gruppo, sentirsi parte di una famiglia, di una comunità, il problema è quando appunto queste differenziazioni su base sociale, su base lavorativa, su base, si appunto si vanno a impilare in una scala di valore, in cui il bianco è sempre all'apice, e di qui appunto arriva la supremazia bianca, e per questo le persone bianche non sono persone razzializzate, perché non si dice non sei non sei così bianco, non sei abbastanza bianco, fai cose non da bianco, robe così, perché il bianco è lo standard, così come si dice storia dell'Africa e non si dice storia dell'Europa, storia occidentale, si dice storia dell'Africa, storia dell'Asia, tutto il resto è scontato che è occidentale, eurocentrico, e questo è un ragionamento complesso ma anche semplice in cui io mi sono trovata a dover dare un senso ad alcune questioni della mia vita ed è un ragionamento che dobbiamo esercitarci a allenare sempre e costantemente, perché il razzismo, il classismo, la questione di genere non riguardano solo le persone direttamente intaccate da questi problemi sistemici ma siamo anche noi parte del problema nel momento in cui scegliamo di non vederlo, quello scegliere di non vederlo, scegliere di non andare a quella manifestazione, scegliere di non votare, scegliere di non informarsi su quella questione, scegliere di non stare zitti quando forse dovremmo stare zitti ascoltare, quella scelta è un privilegio perché io che io ci vada o meno alla manifestazione continuerò a subire determinati sopprusi da parte della società, da parte di persone, da parte di istituzioni, quindi non ho quella scelta di dire ah vabbè tanto sti partiti uno vale l'altro perché uno di quei partiti potrebbe essere quello decisivo per approvare una riforma di questa legge sulla cittadinanza che è razzista perché è basata sulla razza perché trasmette la cittadinanza italiana attraverso il sangue cosa c'è di più razzista di trasmettere la cittadinanza che è un diritto un dispositivo un riconoscimento attraverso il sangue ovvero tu puoi essere italiano solo se erediti geneticamente attributi da un altro italiano questo dice la legge attuale e ci dobbiamo fermare a pensare a queste cose e dopo esserci fermati agire perché pensare non basta andare a manifestare non basta bisogna veramente porci in ascolto porci delle domande continue e cercare di smantellare questo sistema con tutte le contraddizioni che porta grazie sulla bianchezza potrei discutere un sacco sai quando mi dicono tu potresti passare per siciliana per sarda facciamo cinque anni di scambio fatti cinque anni di quelli che mi sono fatta io faccio cinque non quindi fattene cinque di quelli che me ne sono fatta io e poi vediamo perché tante volte effettivamente quando mi dicono anche per lusingarmi vabbè ma potresti sembrare italiana perché effettivamente se io uscissi per strada in giro più verso il sud che forse verso il nord effettivamente potrei mimetizzarmi serenamente cioè non ho l'occhio dello sbirro che mi sta addosso no? sei proprio 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 uno perché ho il privilegio adesso sembra strano a dire il privilegio in quanto donna di non avere l'occhio dello sbirro perché i miei amici e fratelli marocchini maschi non è che proprio non ce l'hanno addosso è che proprio abbiamo lo stigma che se sei marocchino spacci e questo è assodato se qualcuno c'ha il coraggio di alzare la mano di un amico marocchino che spaccia mi farebbe un gran favore però vabbè la femmina in questo senso magari è un privilegio diciamo non ha la street credibility diciamo così la seconda questione è il fatto che il razzismo cioè non è che più sei nera e più rappresenti la radicalità della razzializzazione è proprio che a livello istituzionale cioè tu se non sei italiano e sei in un contesto occidentale siamo tutti uguali cioè in fila la questura ci siamo tutti ci stanno i senegalesi i marocchini i cinesi i rumeni eccetera quindi la bianchezza quando si intende bianchezza la si intende proprio occidentale cioè gli ex imperi non so come dire cioè lì dove la gente va dentro dove immigra no quindi in questo senso cioè io che lavoro in un centro un centro d'accoglienza un centro sia d'accoglienza che antiviolenza ci sono rifugiate che vengono dall'Albania sono bianche ma non occidentali no cioè da Trieste là io che ho vissuto Trieste per qualche anno cioè proprio c'era il muro dell'Occidente no Occidente Oriente ti rendi conto anche del privilegio bianco come è inteso e quindi sì allora la radicalità non è la somma delle oppressioni e questo ci tengo a dirlo perché tante volte era come no cioè tu più oppressioni accumuli e più sei la radicalità e stavamo commentando prima il tweet non so la storia di Iman quella marocchina no che andando a Palermo faceva la figa dicendo cioè dimostrando quanto fosse borghese e spocchiosa ed è marocchina e allora non siamo proprio tutte e tutti la stessa cosa questa è la prima cosa che mi viene da dire la seconda cosa che mi viene da dire è che negli ultimi anni con Black Lives Matter e comunque o il fatto che comunque le cose stanno cambiando e che inizia a entrare in circolo anche una visione diversa di antirazzismo di pari passo si porta con sé questa specie di diciamo condanna della fragilità bianca cioè le persone che si rendono conto di essere bianche portatrici di privilegio ecco che assumono automaticamente una una posizione di impotenza di fragilità no cioè per me è molto frustrante confrontarmi con persone bianche che di fronte a me continuano a dirmi grazie per avermi salvato la vita veramente quello che mi stai raccontando è importantissimo la forza che avete voi di seconda generazione ci aiuterà a salvare questo paese perché grazie a voi che siete venuti qui a invadere l'Italia potremmo veramente scoprire un futuro migliore cioè questa roba qui cioè veramente mi fa andare in pappa il cervello perché dico sono passata dall'essere snobbata anche dai miei compagni e dalle mie compagne che dovevo c'era quella cioè nei movimenti c'era questa cosa della sintesi dell'orizzontalità pura no che se tu ti trovavi in mezzo a venti persone a fare un'assemblea per conto di CPR o qualsiasi roba cioè c'erano venti persone la sintesi era il paradigma la sintesi era il paradigma quindi se c'erano 19 persone bianche e io razzializzata là dentro la sintesi era cioè che comunque c'è il voto cioè anche se non c'è il voto esplicito però comunque la sintesi è questo se la maggioranza è bianca tu ne esci che l'antirazzismo è quella roba lì è la maggioranza alla fine dei conti al ritrovarmi per cui se siamo in venti e c'è una persona razzializzata che sono io ci sono tutti che sembra che sono il Buddha cioè che sono lì che no che ti devo far rivelare quanto tu sei una merda e quanto io sono l'illuminata che ti aiuterà a capire come stare al mondo questa cosa è estremamente frustrante estremamente frustrante perché rendersi conto di avere un privilegio non significa diventare delle pappe molli cioè significa trovare un proprio modo per stare nella situazione e non in qualche modo e riconoscere le persone razzializzate che ti sono vicine cioè capire che quando stiamo parlando di questioni di genere le donne hanno una prospettiva di un certo tipo e quando stiamo parlando di razzismo le persone razzializzate hanno una prospettiva di un certo tipo non significa appunto quella roba lì no cioè veramente è stressante ve lo dico quindi se avete voi questo atteggiamento o se lo riscontrate combattetelo perché non abbiamo bisogno di persone passive non abbiamo bisogno di persone passive quando si parla di cittadinanza per esempio è una questione che riguarda tutti non riguarda soltanto le persone che non hanno avuto il riconoscimento il privilegio della cittadinanza eccetera eccetera ma io mi permetto di aggiungere una riflessione ovvero la questione della cittadinanza grazie poi a altre compagne su cui ho ragionato tanto cioè rispetto al fare chiarezza sul gli ussoli gli usculture eccetera 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 ce ne sono mille di varianti e sfumature la cosa la cosa per me più interessante su cui sto ragionando è il fatto che i diritti cioè i diritti proprio materiali che è la cosa che a noi interessa i diritti materiali gli strumenti proprio per vivere è strettamente connesso concettualmente legato al essere italiani o di un'altra nazionalità barra identità cioè sembra quasi che noi per rivendicare il diritto di vivere in questo paese noi dobbiamo anche scervellarci su che cosa non è o che cosa è la nostra identità cioè sarebbe bello immaginare un mondo in cui una persona in questo paese può votare casomai ne volesse votare mantenendo pur la propria cittadinanza perché per tante persone anche fare la richiesta della cittadinanza è anche come dire un passaggio superfluo tu non hai bisogno di quel riconoscimento io non voglio sentirmi necessariamente italiana io voglio semplicemente non sentirmi lo zerbino di questo stato che è diverso cioè acquisire dei diritti e avere un'identità perché devono essere due elementi strettamente legati a una legge a una riforma non so come dire io posso mantenere la mia cittadinanza così come la percepisco e così come mi sento parlo più forse per per i miei genitori forse parlo più per chi ha chiesto la cittadinanza effettivamente per quello che materialmente ti dà la libertà il passaporto che non effettivamente per tutto anche tutta l'invasività interiore cioè proprio tutto quello che invece dovrebbe essere lasciato a se stessi a un percorso che deve essere libero libero di essere fatto senza nessun tipo di condizionamento ecco questo è il motivo per cui una persona italiana di origini italiane di sangue italiano non si pone mai il problema dell'identità è semplicemente perché la propria identità non è una questione che è messa diciamo lì non è strettamente legata a un chiedere o non chiedere un diritto quindi la cosa per me interessante è sicuramente continuare a lottare per lo Iusoli perché cioè chi nasce qua deve essere italiano e chi cresce qui deve essere italiano più in termini di diritti ma soprattutto anche in termini di identità perché è chiaro che crescere in Italia è essere italiani è ovvio che se mangi pasta pizza tutte queste cose qua è ovvio che se guardi la tv i cartoni animati le piccole cose vai al parco con gli amici cioè veramente non si tratta di fare pipponi politici intellettuali ma proprio di capire come crescono i bambini che giocano al parco insieme giocano a calcio a basket e fanno le cose come tutti i bambini e a un certo punto si rendono conto di essere stranieri perché vanno in questura perché non hanno quel diritto però è lì che la questione dell'identità entra in crisi è semplicemente lì è lì quando dicevo a un certo punto mi sono accorta di essere straniera però mi sono resa conto di essere straniera perché andavo in questura perché facevo delle cose strane bla 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 la cosa interessante per me sarebbe in questo senso siamo tutti protagonisti diciamo tutti tutti coinvolti eccetera è capire lì dove finisce l'italianità diciamo la cittadinanza intesa come nazionalità italiana il timbro quello che vuoi e lì dove iniziano i diritti quelli che acquisisci per sangue e che ti rendono privilegiato nel momento in cui riusciamo veramente a creare una scissione e a anche in qualche modo laicizzare permettetemi il termine i diritti cioè che i diritti sono una cosa che può viaggiare autonomamente senza diciamo il sangue senza questa questa è proprio questo limite questa fragilità proprio perché non sappiamo proprio come come gestirli questi diritti se non se non rinchiudendoli in questo sangue che altrimenti abbiamo la paura di perderne il valore abbiamo la paura di di non riuscire più a controllare di non governarli più questi diritti no per sempre il discorso della governabilità che questo paese è sempre in crisi ecco questo per me è un discorso molto importante cioè io per prendere la cittadinanza e l'ho presa e sono una persona privilegiata perché quando torno in Marocco mi rendo conto di che cosa significa essere marocchina in occidente al confine soprattutto ed è molto più pesante cioè magari diciamo le persone occidentali le persone italiane diciamo che vanno in vacanza in Africa se venite al mio paese magari ce l'avete questo scarto di passare l'aeroporto con nonchalance e rendervi conto che una persona marocchina invece quella nonchalance non la può vivere ecco per me è doppiamente più frustrante perché io ho il sangue pure di quelli là cioè io ho la loro faccia ho la loro identità ho la loro lingua ho le loro origini eppure ho un passaporto europeo privilegiato nel momento in cui ho preso la cittadinanza io ho dovuto giurare fedeltà e io non sono né fedele cioè proprio non sono fedele proprio zero neanche a me stessa e per fortuna e non giuro cioè non è la mia nella mia cioè io non giuro neanche al massimo faccio le scommesse però non è che giuro e non sono fedele a niente e ho dovuto giurare fedeltà sia alla Repubblica che alla Costituzione e per me è stato veramente un momento estremamente violento per quanto simbolico violento e io in quel momento ho deciso che non mi sarei fidata di nessun italiano che non avesse giurato a sua volta fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione e chi me lo dice che intorno a me ci sono persone anarchiche che vanno contro alla Repubblica e alla Costituzione e che ci rendono difficoltoso questo vivere in questo paese no scherzi a parte diciamo che parlare di sinistra in questo paese è estremamente difficile cioè anche perché io ho iniziato a fare politica in un contesto di sinistra extra parlamentare i movimenti eccetera e mi sono reso conto che non riuscivo ad aderire in quel contesto come non riesco a votare nessun tipo di partito di sinistra casomai esistesse e io ancora non ho capito qual è ho il privilegio ma non voto cioè io non voglio votare non voto per rabbia risentimento rancore orgoglio non voglio esercitare un diritto che di fatto non può essere davvero praticato in questo paese non abbiamo ancora davvero un diritto di voto finché non ci sarà lo you solely finché davvero noi come persone razzializzate in questo paese non accederemo a quel diritto e quindi di conseguenza non sarà più considerato un privilegio per chi devo votare io io non credo nei piccoli passi del cambiamento io credo semplicemente nella coscienza del movimento dal basso delle persone che potranno davvero cambiare le cose io credo nel fatto che una generazione lo scorso anno si sia attivata al grido black lives matter I can't breathe eccetera eccetera e che la generazione che sta nascendo adesso sarà una generazione molto più consapevole io credo semplicemente nel fatto che persone simili a me potranno rappresentarmi in futuro e tutto quello che faccio potrà servire a chi ha vissuto l'esperienza come me potrà riuscire collettivamente a cambiare questo paese ma non sicuramente a un uomo bianco che sta lì a raccattare voti a parlare di battaglia per la civiltà per far sì che io sia più o meno riconosciuta io non ho bisogno di riconoscimento io sono sono rancorosa del fatto che mi hanno trattato mi hanno umiliata io ho bisogno di persone come me che riscattino il proprio orgoglio e soprattutto voglio preservare questa rabbia perché è l'unico strumento che abbiamo per poter per poter abbattere quel muro di silenzio perché potremo parlare tantissimo di giussoli di cittadinanza ci vedranno sempre come i figli di immigrati poverini da accettare da riconoscere da includere in questo paese e da integrare è estremamente umiliante già ci è bastato vivere così come abbiamo vissuto questa narrazione alimenta ancora di più ancora di più ancora di più la rabbia che io voglio far esplodere abbiamo bisogno veramente di una generazione arrabbiata di una generazione che veramente faccia paura e non lo dico per farvi paura ma lo dico veramente perché io non sopporto l'idea che qualsiasi tipo di minoranza di qualsiasi tipo di essere umano possa vivere una condizione di compassione questa è una cosa che io non permetto e non voglio e non voglio alimentare di conseguenza ecco parlo di io soli ma anche di disconoscere i diritti che avete acquisito alla nascita senza nessun tipo di giuramento senza nessun tipo di come si dice di 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 test ecco grazie a tutti grazie a tutti